Presentato a Jesolo il progetto di legge a firma dell'onorevole Emanuele Prataviera di Movimento Fare inerente alla fattura fiscalmente nulla, la quale eviterebbe ai possessori di partita IVA di pagare le tasse su un reddito non ancora percepito. Nasce da un confronto serio con il territorio, con gli imprenditori di questa parte del veneziano ma soprattutto nasce anche da vicende personali, infatti essendo figlio di artigiano queste cose le ho vissute anche in prima persona. Quello che gli imprenditori oggi chiedono è regole serie, oneste e soprattutto semplici. Prevedere che si paghino le tasse solamente dopo aver incassato la fattura è il minimo che si debba fare oggi all'imprenditore da parte della politica e questo è il nostro compito, la nostra aspirazione ma soprattutto è il nostro impegno per portare a casa dei risultati concreti agli imprenditori. Il fatto di avere delle imprese che non sono state pagate ma intanto devono pagare le tasse, gli oneri e quant'altro le mette in forte difficoltà e spesso questo è anche causa di fallimenti, quindi di situazioni difficili con personale licenziato e con posti lavoro persi. Quindi eticamente sarebbe correttissimo lavorare con le fatture per cassa, cioè io pago le tasse, io pago l'IVA solo dopo che ho ricevuto il saldo delle mie fatture. Questa dovrebbe essere la correttezza, questa dovrebbe essere la prassi, però purtroppo non è sempre così. Il mio auspicio è che questo venga recepito e che questo effettivamente diventi legge e sarebbe un grosso aiuto per le imprese, per le tante imprese italiane e soprattutto le piccole imprese che non hanno la capacità di restare mesi, mesi se non anni senza ricevere il dovuto ma avendo già pagato tasse e oneri. Se si chiede chiarezza, regole e certezze è anche evidente che un lavoro come si può tentare di iniziare a riprendere, perché è da tanto tempo che se ne parla, sicuramente sarà nell'interesse generale e forse anche nel rendere meno oneroso i problemi che ci sono, perché finanziariamente quando uno deve trovarsi a pagare delle cose di cui non ha avuto beneficio, è sotto certi aspetti sicuramente un'ingiustizia. La presentazione è avvenuta nella zona artigianale di Jesolo, all'interno di un cappannone di smesso, una scelta simbolica tesa a sottolineare la situazione di difficoltà in cui versano le piccole e medie imprese del territorio, locale e nazionale. Nutrita è stata la presenza di imprenditori, rappresentanti di categoria e politici, a conferma dell'importanza del progetto presentato, al quale anche l'intervento del sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha auspicato una positiva e eccelera approvazione da parte del Governo. L'idea è quella di fare delle proposte molto sensate, questa è sensata perché vuol dire paghi le tasse solo quando hai incassato, perché pagare delle tasse su dei soldi che non incassi per un imprenditore, per un artigiano, è paradossale, è una specie di furto di Stato, ma non lo dico con cattiveria, lo dico perché di fatto se lo Stato ti fa pagare delle tasse su un reddito che non hai percepito, gli regali dei soldi che non gli devi regalare. E quindi chiederemo al Governo che approvi e che faccia a suo e che approvi questo progetto di legge perché lo Stato non gli cambia nulla, però agli imprenditori, soprattutto in un momento di difficoltà, gli può cambiare molto, quindi speriamo nel più breve tempo possibile di poterlo calendarizzare e portarlo in discussione.